Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa ogni giorno, anzi mi devo scusare perché per una settimana me ne sono andato in vacanza, sono abbronzato, felice, contento, lunedì riparte Quarta Repubblica e martedì ci sarà Matrix, quindi ho preso una settimana per ricaricarmi negli Stati Uniti, fantastico, e qui si chiude la vicenda, ma non si chiude la vicenda della nostra zuppa di oggi perché vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali, i due temi che sono più interessanti sui giornali sono uno il caso Siri di cui tutta la settimana se ne è parlato e la seconda grazie a chi mi dà del bentornato e la seconda Rita, buongiorno, vedo che ti sei ricollegata ora a Facebook e la seconda vicenda di oggi è il 25 aprile, festa della liberazione, io partirei da questa seconda tra l'altro tra poco sul sito, troverete anzi fra un'ora sul sito dopo questa rassegna troverete un pezzo secondo me meraviglioso di uno storico che si chiama Marco Gervasoni proprio sul 25 aprile sul 25 aprile ci sono tutte quante le celebrazioni, la Casellati, il Presidente del Senato viene intervistato dal Corriere della Sera e dice grazie a chi ha combattuto per la libertà Fico Salvini deve ringraziare i partigiani, dice sul Fatto Quotidiano, piff, piff, i veri eroi oggi dell'antimafia, i veri eroi oggi della libertà sono i giudici antimafia, i veri resistenti, ognuno tira la resistenza, l'acqua della resistenza a modo suo, Conte su Repubblica sbaglia chi non fa festa, su questi valori è nata l'Italia, ciao a Laura, ciao a Stefano che vi siete collegati in questo momento, tutte stronzate, chiaro? Tutte minchiate, è una gigantesca enorme retorica per cui sembra che ci fossero 4 fascisti e il 96% degli italiani che era là ucciso da questi 4 fascisti, no non era così, c'erano 4 partigiani, c'erano 4 resistenti e un'Italia fascista, totalmente fascista, come è stata un'Italia totalmente berlusconiana, un'Italia totalmente democristiana, un'Italia totalmente leghista oggi, ma all'epoca ancora di più, il 96% era fascista, era comunque vicina al regime, e questa storia del 25 aprile è ancora più disgustosa perché sembra che ci sia stata una sollevazione popolare per mandare via dall'Italia dopo l'indecoroso 8 settembre gli occupanti, che erano occupanti tedeschi, se non ci fossero stati gli americani non avremmo risolto niente, io oggi avrei voluto vedere semmai chi ci ha salvato gli americani, oppure come dice in maniera sana, giusta, antiretorica Alessandro Sallusti, il vero festeggiamento, che è un festeggiamento di parte ovviamente, è quello del 18 aprile del 48, quando gli italiani diedero la maggioranza dei seggi parlamentari alla democrazia cristiana, cioè quando questo paese decise di non essere il paese di Tito, di non essere il paese dell'Unione Sovietica, il paese dei comunisti, comunisti che rischiavano di vincere le elezioni, quella è stata la vera scelta atlantica, liberale, di battaglie contro i liberali dell'Italia, perché l'altra è stata certo una battaglia di libertà contro il fascismo, ma fatta dagli americani, fatta dagli alleati non italiani fino all'8 settembre, chiaro? Non puoi dire queste cose, sì, lo so Barbara, non posso dire queste cose, ma in realtà la vittoria del 18 aprile del fronte democraziano è quello per il quale oggi, di De Gasperi, è il motivo per il quale oggi viviamo ancora in un paese solido e democratico, non è mai niente trasmissione lunedì, perché lunedì abbiamo fatto pausa. Seconda vicenda sulla liberazione ve ne ho parlato, seconda vicenda è il caso Siri, e qui sul caso Siri la cosa fondamentale la tira fuori per la verità, la verità di Belpietro, perché oggi la verità di Belpietro titola a tutta pagina che quella famosa intercettazione del Corriere della Sera ci è costata 30 mila euro nei fascicoli della procura, quella frase non c'è, quindi Siri che ha avuto rapporti con questo Arata che fino a prova contraria è un ex parlamentare, un professore universitario, una persona per bene che sarebbe stato in affari con una persona che sarebbe stata vicina al clan mafioso di Messina Denaro, questa è soltanto l'accusa, quindi Siri sarebbe stato amico di questo Arata, era amico di questo Arata e Arata sarebbe stato in affari con un amico di Messina Denaro e quindi la Lega sarebbe mafiosa, secondo quello che dicono i giornali, tra cui il Fatto Quotidiano, non solo loro e tra cui quello che dice Di Maio, per il quale motivo oggi Salvini sui giornali dice, su tutti i giornali sciacquati la bocca prima di dire che la Lega è mafiosa e volano gli insulti, titolo i giornali, e volano gli insulti, ragazzi se mi dà del mafioso certo che volano gli insulti, gli stessi insulti che oggi nel fondo Travaglio scrive e ancora continua a dare a una certa parte che non la pensa come lui, dice l'unico partito mafioso in Italia è stato quello di Forza Italia e così passa in cavalleria, no? Il partito mafioso in Italia è Forza Italia, questo non è un partito mafioso, c'è ragione, come si chiama Salvini, però insomma la mafia si sta occupando di loro invece che del Movimento 5 Stelle perché il Movimento 5 Stelle è un partito al di sopra di ogni sospetto, presidente del Consiglio Comunale a Roma in galera, ma magari è innocente, Nogarin indagato, magari è innocente, l'Appendino indagata, magari è innocente, la Raggi indagata, sicuramente è innocente, a Catania hanno indagato alcuni, in Sicilia hanno indagato alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, magari sono innocenti, l'unico partito però innocente sempre per definizione è quello là, gli altri sono tutti quanti vicini alla mafia, la mafia ci sta provando e nella sua follia travagliesca, solo travaglio? No, perché oggi legge un pezzo di Ferrara, anche divertente su Grillo, in cui dice che Grillo sembra un Natale, ormai ci sono tutti quanti questi tic, insomma in cui, come si chiama, Grillo è totalmente ininfluente, è diventato una specie di parvenù della politica italiana e non conta più nulla, pezzo anche molto divertente di Ferrara, ma nella quale Ferrara si è completamente bevuto il cervello, in cui dice il governo dei Siri, degli Arata, ma che cacchio sta dicendo? Ma perché Ferrara è come travaglio? Se io vedo che Ferrara, il fondatore del Foglio, dove ci ha lavorato per tre anni, il garantista, quello che ci ha spiegato che Berlusconi perché era amico di Dell'Utri non per questo fosse mafioso, il fatto che Dell'Utri è in galera per concorso esterno non vuol dire che lui sia mafioso? Bene, lo stesso Ferrara oggi che cosa dice? Che è il governo degli Arata e dei Siri, quando poi lo stesso giorno un altro giornale spiega che quell'intercettazione non c'è, e allora vale tutto Giuliano, e allora vale tutto, cioè se si è fatto trasportare così tanto dall'odio nei confronti del Truce, non riesco a capire che senso abbia, accanto poi c'è un'intervista fatta da Cerasa a Berlusconi dove in realtà non è che si dica granché, se non che Berlusconi dice che il governo secondo lui è guida Movimento 5 Stelle soprattutto nel campo dell'economia e poi le solite cose, cioè che dovrebbe mollare Salvini questo governo. Divertente il pezzo, interessante il pezzo per segnalarvi altre cose di Alesina e Giavazzi sul debito giapponese, perché è una cosa che circola sempre, si dice i giapponesi hanno un debito del 230%, noi l'abbiamo del 130%, non facciamo tutti questi drammi sulla crescita del debito, che è una cazzata, hanno ragione Gialesina, Alesina e Giavazzi, non lo hanno sempre, non è che noi possiamo pensare sempre di far debito, 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 facciamo come i giapponesi che hanno il 230%, si dice chi se ne frega continuiamo a spendere, espandere, facciamo il reddito di cittadinanza, quota 100%, facciamo diventare quota 90%, chi cacchio se ne frega a proposito di fascismo. Il punto, dicono Gialesina, ed hanno ragione, che se l'Europa è cresciuta poco negli ultimi 30 anni, cioè dell'1,5%, il Giappone è cresciuto ancora meno dello 0,8%, mezzo punto in meno, 50% in meno, cioè di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un paese che c'è la sua moneta, che il suo debito se lo tiene in casa attraverso pubblicizzazione del debito, cioè banche, poste, è un debito tutto residente, non esiste lo spread, ma non esiste neanche la crescita, cioè un paese che ha un debito enorme, anche se ce l'ha tutto in casa, non cresce. Chiaro? Toc toc, il debito non fa bene, i soldi non crescono sugli alberi purtroppo, ma crescono producendo, esportando, e tra l'altro i dati oggi delle esportazioni sono gravissimi nei macchinari. Due considerazioni oggi fatte sull'economia, una diversa dall'altra che mi fanno impazzire. Da una parte leggi Bonometti che è presente della Confindustria Lombarda, grandissimo imprenditore, uomo che è veramente uno dei pochi in Confindustria che c'è l'azienda, che dice guarda che questo decreto crescita non funziona, non dà lo shock e l'economia. Dall'altra la Panucci, che è direttore generale della Confindustria, che sul mattino dice, sul quotidiano del gruppo di Caltaggisone, dice che invece il decreto crescita fa registrare un'inversione di tendenza, non che le due cose siano così in contrasto, ma insomma il lato direi più negativo è quello più di Bonometti dell'imprenditore, quello un po' più dialogante e politico è quello della Panucci. Benzina a 2 euro, ci titola il giornale, ma non solo il giornale, molto divertente oggi Stefano Agnoli sul Corriere della Sera che dice, vabbè, cosa vuol dire benzina a 2 euro, che è un'enormità ovviamente, io in America con 2 euro ci facevo 3 galloni di benzina, adesso per dire, non è un tema, un pieno in America costa 30 dollari, in Italia 100 euro per una macchina diciamo con un buon serbatoio e cambia quando la benzina costa 1 terzo negli Stati Uniti, ma il punto fondamentale qual è sulla benzina? Nel 1977 quando c'era l'austerity, la benzina il problema, tutti quei casini eccetera, la benzina costava 500 lire al litro, quanto è 500 lire al litro? Esattamente 1,974 euro di oggi, quindi nel 77 la benzina costava quanto oggi, né più né meno, cioè siamo come in quel periodo là, solo che oggi si consuma molto di meno, cioè una macchina fa molti più chilometri con molta meno benzina, quindi oggi stiamo meglio rispetto al 1977 anche se sembrano che questi costi siano insopportabili, contento di questo? No ovviamente. Bello, bellissimo il pezzo di Del Vigo oggi sul giornale, il vice elettore del giornale dice come arrivano, tutti i giornali dicono che vogliono arrestare i manager dell'ILVA, tutte cose giustizialiste del Movimento 5 Stelle da campagna elettorale, ma il vero dato è che le minchiate che avevano proposto sull'ILVA, grazie al cielo non è stata chiusa come volevano loro, si sono riversate contro il Movimento 5 Stelle che con quattro ministri è dovuto andare a Taranto blindato, meno male che c'era la scorta fatta dalla gente, dal popolo, invece dice bene Del Vigo la scorta viene fatta dalla gente, dalla gente, non dalla gente, dalla gente di polizia, se no quelli li corcavano di botte a Taranto per le cazzate che avevano raccontato sulla TAP, sull'ILVA, tutte quelle stupidaggini che invece erano state risolte dal governo precedente, grazie al cielo e da quello precedente, quindi si fa la TAP e l'ILVA viene venduta per le minchiate fatte nel passato dai magistrati, ovviamente, e risolte, chiaro? E quindi quando quelli si sono presentati a Taranto li volevano corcare di botte, così in maniera indecorosa volevano fare, ma devo dire la verità, interessante questo punto di vista molto più divertente di Del Vigo rispetto alle altre novità di giornata. Da segnalare sul Sole 24 ore di oggi, Cucci, che è un gruppo caring svizzero, che ha patteggiato col fisco italiano un miliardo di euro per gli ultimi cinque anni di imposte, non non versate, versate in Svizzera, ma in Svizzera c'è un'aliquota fiscale del 9% inferiore rispetto all'Italia, quindi l'Italia ha riuscita attraverso la magistratura di Milano, quella sì molto pratica sui soldi, greco su questo è bravissimo, che cosa è riuscito a fare, e non è la prima volta la procura di Milano, a dire voi avete fatto finta di fare questi utili in Svizzera e invece li avete fatti in Italia, il vantaggio è del 9%, negli ultimi cinque anni dovete ripagarcelo qua, sanzioni e interesse, mettiamoci d'accordo, dateci un miliardo e chiusa e patta, e così è stato un miliardo preso da una procura intelligente che ha fatto una trattativa intelligente con un gruppo finanziario, perché e Kering è un gruppo finanziario che tra l'altro controlla la società di grande successo Gucci, avvenire intervista alla Raggi, avvenire che è il nuovo manifesto, cioè il nuovo giornale comunista, intervista alla Raggi che parla solo, Roma dovrebbe diventare una città dell'accoglienza e della legalità, ma va, guarda, te viene, ma Roma dovrebbe diventare una città dell'accoglienza, ecco, prima di fare l'accoglienza della legalità metti a posto le buche, togli la monnezza dalla causa, fai funzionare i mezzi pubblici, riapri le fermate della metropolitana, fai avere due, tre, riesci a costruire qualcosa in questa città, no, questa è la città dell'accoglienza della legalità, ma questi sono, vabbè, e la votano tutti, bellissimo, con questo concludo, bellissimo il pezzo di Danilo Taino, non bisogna mai perdere Taino, l'unico, uno dei pochi liberali rimasti al Corriere della Sera, che cita uno studio del centro studio IFO tedesco, che prende da una parte una Mercedes diesel, dall'altra una Tesla, secondo voi, chi delle due, Pan, Apple, Apple, secondo voi, quali delle due macchine produce più CO2, che non è un inquinante, ma è semplicemente nitride carbonica, alle quali siamo tutti fissati, gretini di tutto il mondo sono fissati, da una parte una Mercedes diesel, dall'altra una Tesla, bene, le emissioni CO2 della Mercedes diesel sono 141 grammi, quelli della Tesla sono 155 fino a 180, perché vengono prodotte le batterie della Tesla e non si producono così come i soldi senza debito pubblico e soprattutto per ricaricarle, come avviene in Germania, si ricaricano con l'energia elettrica prodotta dal carbone, dei geni totali. Tra poco sul sito vedrete il pezzo di Gervasoni, secondo me straordinario, sulla resistenza sul 25 aprile e sulle parole di Mattarella e io vi do appuntamento lunedì con Quarta Repubblica, martedì con Matrix, ci sarà l'esordio di Zingaretti a Matrix, come segretario del PD perché faremo un Matrix con tutti quanti gli uomini che si candidano e che governeranno l'Europa per i prossimi quattro anni, cinque anni e ovviamente domani con la zuppa. Viva il diesel, viva il petrolio, fantastico Ettore che ha il coraggio di scriverlo sulla mia diretta di Facebook, di Instagram, elettrici una fesserina in mante dice Pier Giorgio, la zuppa di car guida io solo economia disuguale, Pier Giorgio ciao, Roberto ti dimentichi gli altri inquinanti prodotti da un diesel, certo ci sono altri inquinanti prodotti dal diesel ma come voi ben sapete, se vogliamo proprio approfondire questa cosa sapete qual è il produttore di maggiori, da cosa arrivano il maggior numero di polveri sottili? Da freni e pneumatici che ce l'hanno fino a prova contraria anche le macchine elettriche. Ciao!